Ma tu hai steso la tua mano dall'alto e hai salvato la mia anima da un tale abisso di tenebre, mentre per amor mio piangeva innanzi a te mia madre, tua fedele, versando più lacrime di quante ne versino mai le madri alla morte dei figli. Grazie alla fede e allo spirito ricevuto da te, essa vedeva la mia morte, e tu l'esaudisti, non disprezzasti le sue lacrime che bagnavano la terra dappertutto, tu l'esaudisti. Infatti da chi le venne se non da te, quel sogno consolatore grazie al quale accettò di vivere con me e condividere con me la mensa, mentre prima si era rifiutata di farlo a causa del mio comportamento blasfemo. Sognò di stare dritta sopra un regolo di legno, dove un giovane radioso e sorridente le andava incontro, mentre era afflitta e affranta. Il giovane le chiedeva i motivi delle lacrime che versava ogni giorno, più con l'intento di istruirla, come suole accadere, che di imparare. E la sua risposta era che la piangeva a causa della mia perdizione. Allora l'altro la invitava per tranquillizzarla e la esortava a guardarsi attorno, non vedeva che là dove era lei ero anch'io. E la guardò e mi vide al suo fianco, sul medesimo regolo di legno. Cosa significava questo sogno, se non che tu eri pronto ad ascoltarla, o bontà onnipotente, che ti prendi cura di ciascuno di noi come se avessi solo lui da curare, e di tutti come di ciascuno. Ed inoltre, dopo avermi narrato il suo sogno, appunto, e mentre io provavo a spiegarlo così, che era lei piuttosto a non dover disperare di essere un giorno come me, ebbene, subito, senza un attimo di esitazione, esclamò No, non mi fu detto là dove è lui sarai anche tu, ma là dove sei tu sarà anche lui. Ti confesso, Signore, questo mio ricordo, e non ne feci mai mistero, che ancor più del sogno in sé, mi scosse questa tua risposta per bocca di mia madre sveglia. Essa non si smarrì di fronte a una così sottile ma falsa interpretazione, e ha visto subito quello che c'era da vedere, e che io certo non avevo visto prima delle sue parole. In quel sogno, e molto tempo prima del vero, fu predetto alla mia donna la gioia che avrebbe avuto in futuro, per consolarla dell'ansia che la struggeva al presente. Seguirono infatti nove anni, durante i quali io mi rivoltai in quel fango d'abisso e tenebre d'orrore, dove ad ognuno dei molti tentativi che feci per risollevarmi, mi abbattevo più pesantemente. Eppure quella vedova casta, pia e morigerata, di quelle che tu ami, rinforzata ma certo sempre incline al pianto, persisteva a piangere per me davanti a te in tutte le ore delle sue orazioni. Le sue preghiere arrivavano al tuo sguardo, purtuttavia tu mi lasciavi ancora a girare fra le tenebre.